Se applaudisco, vestita così, mi esce fuori tutto. Vedi? Se applaudisci si vede tutto. Nike Rivelli fa a discutere anche quando non è su Instagram con Caprioli o Zeo vestiti succinti, vedi le docce hot. Ospite di Domenica Live, la figlia di Ornella Muti si è resa protagonista di una gaffe grammaticale che l'ha immediatamente messa sulla graticola. Il pubblico via web ha cominciato a sbizzarrirsi con commenti lari di ogni genere. Se applaudisco, vestita così, mi esce fuori tutto. Vedi? Se applaudisci si vede tutto. Nike Rivelli in realtà non ha commesso un vero e proprio errore. Solo per alcuni modi, come l'indicativo e il congiuntivo presente o l'imperativo, è possibile utilizzare applaudisco. Anche se la forma più frequente resta di gran lunga applaudo. Anche se coniari carrisi è finita da tempo, i due restano grandi amici. Eppure non è bastato per vederla presenziare al matrimonio di Christel Carrisi, celebrato solo poche settimane fa. Grandi assente la Rivelli così come Loredana e Lecciso, eppure entrambe erano state invitate. Come ha dichiarato la Lecciso, ho scelto il buonsenso, è il giorno di Christel. Della stessa idea per il buonsenso è stata anche Nike Rivelli. Chi se ne frega.